Chiediamo a Peio del percorso del giro, del percorso del tour, quale ti piace di più? A me normalmente mi piace il percorso del giro, però quest'anno devo dire il contrario, alla fine parte dalla mia casa e per me è una cosa che probabilmente succede una volta nella vita e non a tutti i ciclisti. Io sono stato fortunato che il tour parte da Bilbao e devo essere lì. Mi dispiace alla fine dire di no al giro, però penso che per una volta devo fare la scommessa al 100% per il tour. Vabbè dai, una notizia ce l'abbiamo. Allora, ufficiale, Peio Bilbao parteciperà al prossimo tour de France. Alberto mi dispiace.